Buongiorno a tutti e a tutti coloro che vedranno questo video, videocorso della campagna nazionale Io resto a casa per affrontare insieme questa emergenza, campagna a cui aderiamo tutti, il Cesbo Lumbria, attraverso questa serie di video realizzati dal sottoscritto Pietro Floris per offrire e mettere a disposizione tutte le associazioni dell'Umbria e di chiunque ovviamente si volesse collegare alla pagina Facebook di Cesbo Lumbria alle ore 17 e prevedere uno dei nostri videocorsi gratuiti in tema di comunicazione online. Dopo i tre videocorsi delle giornate precedenti dedicate a Google My Business e dopo il videocorso di ieri, sabato 14 marzo in merito al nuovo argomento che sto affrontando insieme a voi, ovvero quello delle pagine Facebook, oggi continuiamo sull'argomento vedendo altre sezioni e elementi particolari delle pagine Facebook magari meno conosciute che potremmo ottimizzare per comunicare e informare in maniera più precisa chi ci segue attraverso questo social network. Ieri abbiamo parlato della sezione informazioni, importante, rivedete il video che non l'avesse visto perché è lì che sono condensate le informazioni di servizio principali, i recapiti e l'orario di apertura molto importante in questo momento in cui abbiamo magari orari ridotti o siamo chiusi temporaneamente, comunicarlo in maniera evidente anche attraverso le pagine di Facebook ai nostri utenti. Bene, condivido con voi subito le schermate attraverso le quali andremo a vedere oggi aspetti riguardanti il layout grafico della pagina Facebook. Quindi oggi in particolare parleremo delle tab e del modello di pagina, del layout, quindi dello schema grafico della nostra pagina Facebook che può essere da noi scelto e personalizzato nella parte del menu laterale delle cosette tab. Ok, vediamo subito questo nuovo argomento. Accediamo alla nostra pagina Facebook di cui ovviamente siamo gli amministratori nel caso in cui non lo possiamo ancora e volessimo prendere diciamo in gestione insieme a chi l'ha creata o chi la gestisce attualmente la pagina Facebook, questo passaggio, questa funzione può essere attivata sempre da impostazioni, da chi ovviamente al momento ne detiene l'amministrazione, la gestione della pagina, da impostazioni e ruoli della pagina. Voce che si trova nel menu laterale, che adesso tra qualche secondo comparirà, ok, a sinistra della schermata, quindi nella colonna di sinistra. Da ruoli della pagina noi possiamo aggiungere o farci aggiungere come amministratori o co-amministratori e co-gestori della pagina. Bene, una volta fatto questo, magari lo vedremo questo nei prossimi video, quello che mi premeva oggi farvi vedere è questa voce, ovvero modelli e tab. Modelli fa riferimento al layout grafico, quindi all'aspetto grafico della nostra pagina, che a differenza di come magari si potrebbe pensare, non è unica per tutte le pagine di Facebook, ma è possibile scegliere fra una serie di modelli, molto simili ovviamente tra di loro, cambia fondamentalmente soltanto la disposizione di alcuni elementi di questa pagina in funzione dell'argomento, dell'attività che noi intraprendiamo. In questo caso io, appunto, poiché si tratta di una pagina, di un'associazione di volontariato, il giardino di Francesca, ho scelto come modello e sto utilizzando il modello, guarda caso, organizzazione no profit. Andando su modifica però possiamo scorrere altre tipologie di modelli che, aprendo su visualizza i dettagli, è dove possiamo vedere appunto la differenza rispetto ai modelli restanti. Differenze minime fondamentalmente riguardano la posizione dei pulsanti che stanno diciamo sotto alla cover in particolare e diciamo l'ordine delle tab, delle voci laterali, del menu laterale, che vedremo poi nello specifico possiamo noi direttamente gestire. Ok, quindi attraverso questi modelli noi potremo individuare un layout, quindi uno schema di pagine più adatto per l'attività che noi facciamo. Magari la nostra associazione organizza spesso degli eventi e quindi magari ha necessità che vengono ripresi attraverso video e quindi ha bisogno di un layout che metta maggiormente in evidenza i video degli eventi o comunque i video che vengono realizzati anche divulgativi o i tutorial che vengono realizzati dall'associazione. Oppure è un'associazione che ha un locale aperto al pubblico e un locale anche ristorativo o comunque di intrattenimento e quindi ha necessità di evidenziare maggiormente questo aspetto dell'accoglienza nei propri ambienti. Oppure è un'associazione che eroga diversi e differenziati servizi nei confronti di una clientela piuttosto ampia e variegata per cui magari il modello più adatto con cui partire o che possiamo modificare è il modello di servizi. Andatele a scoprire in modo da verificare se c'è un modello e un layout di pagina più adatto a quello in uso da parte vostra al momento. Si parte col modello standard per poi passare a modelli specifici. Bene, sono entrato in questa pagina non tanto e non solo per farvi vedere i modelli, ripeto che si assomigliano molto tra di loro, salvo qualche differenza, quanto piuttosto, e questo vale per tutte le pagine, perché qui abbiamo la possibilità di modificare l'ordine delle voci del menu, cosiddette tab. A sinistra, quando appunto nella home page di una pagina a Facebook, ci sono una serie di collegamenti ai vari contenuti che la pagina presenta, i post, i video, gli eventi, le recensioni, le informazioni, eccetera, eccetera. Bene, queste voci non sono immutabili, l'ordine di queste voci può essere semplicemente modificato da, ripeto, impostazioni, modelli e tab, dove possiamo appunto, per esempio, spostare una voce, quindi un contenuto, per esempio video, possiamo magari metterlo prima di ogni altro contenuto, perché magari utilizziamo molto questa tipologia di posto, viceversa, se abbiamo nella sezione servizi, una sorta di catalogo di servizi, ne abbiamo accennato ieri, magari lo rivedremo nel dettaglio, abbiamo già inserito diversi servizi, questi possono essere premiati con una posizione prioritaria all'interno di questo elenco, e così via. Tra l'altro, attraverso le altre tab, sfogliando tutte le tab, scopriamo magari alcuni contenuti non abbiamo mai utilizzato. Per esempio, ieri vi ho parlato, parlandovi dell'About Us, della storia o della mission che compare in molte pagine Facebook, in basso a destra, sotto alla copertina, vi ho parlato di note, cioè una tipologia di post che ha la caratteristica di aprirsi a tutta pagina e quindi particolarmente adatta per evidenziare contenuti multimediali con una discreta quantità di testo, magari incorporando video o mappe con una bella testata grafica e altre foto fino a farne anche una galleria. Bene, notte, è una tipologia di post che possiamo sicuramente utilizzare, una volta che lo utilizziamo in maniera massiccia per evidenziare magari appunto informazioni utili, avvisi, la policy magari della nostra pagina o comunque informazioni che vogliamo mettere in evidenza, in risalto, una volta fatto questo, quindi creato molte notte, questa sezione notte possiamo trascinarla e metterla più in alto in evidenza. Oppure andando su aggiungi una tab possiamo verificare quali sono al momento le tab che non utilizziamo, manco sapevamo magari che esistessero e scopriamo, vediamo che per esempio c'è una tab lavoro con cui, questo magari molti di voi già lo sanno, potremo non tanto uscire lavoro quanto magari reclutare o proporre delle collaborazioni a dei nostri amici volontari. Oppure offerte, se magari l'associazione fa raccolta fondi tramite appunto la vendita o l'offerta di prodotti, ok, e appunto la tab vetrina con cui è possibile inserire questi prodotti in promozione o in vendita ai fini appunto di raccolta fondi. Ok, quindi possiamo per esempio aggiungere la sezione aggiungi tab che viene aggiunta e aggiungerle tutte quante, considerate che le tab non appaiono se per queste tab, per questa tipologia di contenuto non c'è alcun post, ok, alcun contenuto. Quindi finché non creiamo almeno una nota o almeno un prodotto in vetrina, la sezione vetrina a lato del menu di tab non appare, ok, quindi in teoria le potremo aggiungere tutte e soltanto quando le usiamo apparirà la relativa voce. Ok, visto questo modello e tab e per qualsiasi dubbio ho richiesta di maggiore approfondimento. Non insiedete a chiedermelo attraverso i commenti del post video che appunto è pubblicato a partire dalle 17 sulla pagina Facebook in cui dice Esvoli. Ora vediamo altre due sezioni, altre due voci interessanti e magari meno conosciute a livello di funzioni della nostra pagina Facebook e vediamo WhatsApp, c'è la possibilità ormai da diversi mesi di associare alla nostra pagina Facebook un numero WhatsApp che poi può essere messo a disposizione dell'utenza per contattarci. Per fare questo passaggio è necessario validare e quindi verificare il numero di telefono che noi aggiungiamo, numero di cellulare ovviamente, magari quello già presente in informazioni o uno nuovo che andiamo ad aggiungere. Dopodiché si attiva una procedura molto breve in cui Facebook ci richiede attraverso un PIN di verificare appunto l'appartenenza a noi di quel numero di telefono e dopodiché una volta verificato e validato questo numero abbiamo la possibilità di aggiungere WhatsApp anche nel pulsante sotto la copertina della home. Se noi andiamo, torniamo indietro su pagina, sulla pagina Facebook del Giardino di Francesca, noteremo che sotto la copertina, la cover, c'è proprio il pulsante, quindi il pulsante cosiddetto call to action di WhatsApp. WhatsApp, molto utilizzato a tutti noi, favorisce sicuramente i contatti rispetto allo stesso messenger ma anche rispetto a un invito all'azione come scopri di più, inviaci un messaggio e così via. WhatsApp lo sentiamo più familiare e quindi è probabile che riceviamo contatti, richieste via attraverso questo canale. Sempre andando su impostazioni, vediamo come ultima voce della lezione odierna, un'altra voce che è utile, diciamo, su cui è utile soffermarsi. Dopo WhatsApp una cosa interessante che vi volevo far vedere sono i badge, i badge di Facebook. Molti di voi magari già li conosceranno, non sempre vengono attivati, perché vengono attivati, diciamo, in maniera diretta e volontaria da parte dell'amministratore della pagina. Quali sono i badge? Sono delle icone che appagliano agli utenti più attivi all'interno della nostra pagina per segnalare appunto che l'utente X ci segue e interagisce più degli altri. È una sorta di medaglia, di premio, di riconoscimento, diciamo, digitale, virtuale, chiediamo ai nostri follower più attivi che l'incentiva continua ad essere più attiva oppure incentiva a chi non è fan più attivo ad esserlo. Bene, per oggi ci fermiamo. Vi ringrazio per l'attenzione, quindi considerate che le lezioni su Facebook page proseguiranno a partire da domani stesso, 16 lunedì, 16 luglio. Un saluto da Pietro Floris e ricordatevi di restare a casa, di continuare a formarvi, approfittare del tempo libero che abbiamo per occuparlo sanamente, in famiglia, a casa, con le cose a noi più care. Un saluto da Pietro Floris. Ciao e a domani. Ciao!